Ehi, che ci fai sul mio canale? Stavo preparando un nuovo video, sono Anima, faccio video divertenti e tengo compagnia ai miei iscritti con un video al giorno, insomma mica poco, però, aspetta un attimo, tu hai una faccia nuova, non sei iscritto al mio canale, ti sei sicuramente perso un sacco di video, beh, tipo le mie challenge o i miei video di FIFA, sì, quelli, sì, no, no, è inutile che fai il sicuro a testa, non li hai visti, non sei iscritto al mio canale, ma se non ti basta c'è anche Minecraft, FIFA Qtime, GTA V e tantissimi altri giochi e via sempre appassionato, ma in ogni caso, qualsiasi cosa faccio, l'importante è vedervi felici, andate in pace, vabbè, io torno a montare il video per domani, che tra l'altro, quello di oggi è già uscito, tu sai già cosa fare, iscriviti.